Ciao, benvenuti alla laboratoria di Calotteretri, Scuola e Balneario. Qua imparerai a sistemare tutto quello che è l'estetica e non solo del plenacolo. Imparerai a montare e evitare il plenacolo. Imparerai tutti i vari sistemi di pensaggio, la saldatura, i nuovi diventi rincollati, i nuovi diventi massitali. Imparerai di andare da soli per montare un pezzo. Imparerai anche la parte un pochettino più tradizionale, chiamiamola così. Quindi abbiamo la parte di stuccatura e carteggiatura. Imparerai che si può utilizzare il metodo migliore per carteggiare, per riempire e per portare il pezzo in condizioni ideali per poi eseruire la verniciatura. La verniciatura non è solamente l'applicazione della vernici, ma anche creare il colore, correggerlo, stenderlo e, perché no, crearti anche una tua tutta. Allora, lungo questo percorso imparerai anche tutto quello che viene dopo, la verniciatura, la parte di rimozione del pezzo della verniciatura, cosa che è molto difficile. E soprattutto, lungo il terzo anno, imparerai a fare detailing, che è la parte in cui imparerai veramente a prendere la figura delle auto. Ti aspettiamo. Grazie.